Ciao ragazzi, facci un porto, a farci di fondo, in un posto che lascio a scoprire a voi dove si trova. Seguitevi, a diretti caldo, se chi dominasse, possiamo passare e tirare dentro da un posto loro stagosi. Ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.